Che spettacolo, guarda che colori sopra tu, salutate, salutate, oh manone, solo le mani si vede, le mani del manone, ed ecco a voi la signora orata, la nostra signora orata, vai leggermente indietro perché stiamo uscendo ragazzi. Ma ti ricordi a Guglia 1? Come no, credo di avercela ancora quel video da qualche parte, credo che mi abbia già mangiato, e va, credo che mi abbia già mangiato, e va, credo che mi abbia già mangiato, e soprattutto Federico sta a riprendere, cioè è bellissimo. Allora, guarda che spettacolo, guarda che fai, 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 guarda che fai. Spesso, facciamo, prima lo spot promozionale, ma ora rifaguglia 1, ora ta 1, come sempre la batteria è quasi finita. Oh ma cappotto con le patte, il bordo.